Hola, sono Marcus Grone, signore e signori benvenuti in una nuova puntata della Techopolis 2 Nell'ultima puntata abbiamo sbloccato il tin, il copper, il bronze, le ricerche, le cose e io mi sono preso un attimo di tempo per sistemare tutto quanto e abbiamo scoperto delle cose che mi avete anche lasciato nei commenti quindi grazie a tutti dei commentozzi Allora, punto primo, punto primo non so perché, ma se metti l'hopper il ciccio ciccio ti tira fuori soltanto il legno se invece metti una chest, ti tira fuori stick, foglie, legno e mele WTF, dude? Quindi ho fatto questo sistemino qui che divide le cosine, adesso le sto mandando a distruggere perché sono pieno vedete? che divideva queste cosine qui e mandava il legname, serve più legname qui dentro a fare legno e quando si riempie il legno mi fa, mi va sotto e poi mi fa il charciola eh, da paura ho rispostato tutto quanto questo qui qui quindi abbiamo il coal, i lavislazuli, il copper e il tin sempre la stessa cosa, però adesso abbiamo i cosi di tin qua sopra e qui siamo che meraviglia siamo ricchi, siamo ricchi, siamo ricchi e so sì, mi piace di qua sto facendo un altro coso che fa soltanto coal poi vi spiego perché e di qua ho messo a fare le risorse base tra l'altro ragazzi io mi sono messo a prendere le foglie perché non avevo le foglie ma con le foglie si graftava la dirt e con la dirt la potevi minare e quindi va bene allora ho messo a fare un cobblestone uno di stone col tier 2 uno di light grey ottimo direi col tier 3 sempre dirt col tier 3 e la grut perché la grut c'è un altro crafting che questo te ne dà 9 io invece ho fatto questo quindi quindi basta che fai 9, 27, 36 e si vola eccolo qui piano di grut c'è una cosina che mi avete scritto quindi voglio subito andarlo a vedere ovvero mi avete detto Manfred guarda che ci può fare e io l'ho già preparato il compressed cobblestone però vedi 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 o vedi tuo video io non c'è quindi immagino che sia una ricerca e se fosse una ricerca sarei una di molto basica compressium eccola qua eccola qua vuole dei log e della smoothstone ma nessunissimo problema la posso lavorare la smoothstone posho posho non so se posso qui ho messo il piccolo orticello tanto facciamo così e la roba ricresce magari è sugarcanna e se ne metto di più però va bene quindi facciamo subito la carta molto molto bene poi per fare la carta serve altra carta molto ma ce l'avevo ma ce l'avevo vabbè sorry sorry guys vediamo subito se posso farlo posso minarla posso minarla non posso minarla devo cuocerla ricordiamocelo ricordiamocelo e sbata sbrem signori poi prendiamo le nostre monetine e macarena ce l'ha sbloccato c'è anche il trashcan lo voglio lo voglio ah vuole il technium non vi preoccupate questa puntata la facciamo che farming regà ho portato con la diretta che ho fatto ho portato questo non mi piace come pavimento ma volevo salvare il grass che se no l'avrei sicuramente cancellato dimenticandomene come un ricoglionito quindi adesso possiamo fare la compressed cobblestone allora tier 2 poi c'è tier 3 e così via vabbè non lo so se ci serve ci serve non lo so però se ci dovesse servì noi facciamo ah no spai frate ce ne serve molto di più ce ne serve molto di più ce ne serve un sacco vieni qui chissà che ci si fa se ci si fa qualcosa di figo oppure no oppure no oppure forse sbram 64 perfetto ho la mia guanda appena ristorata lo mettiamo qui togli non ho il piccone si sarà rotto e poi dobbiamo busciare dobbiamo busciare pickaxe facciamo quello marcio in realtà il prospector è quasi sempre meglio non so perché non l'ho fatto ma va bene dovrei farlo di ferro ma non ho ancora il ferro sbram 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 e sbram vediamo un po' sta funzionando perfetto perfetto forse è ridondante forse no chi se ne frega allora nell'ultima puntata c'eravamo lasciati che avevamo fatto nove pezzi di coal brick di coke brick quindi adesso con tutte queste belle materie prime io direi che non ci dovrebbe essere il problema giusto perfetto quindi andiamo a prendere ah sapete che voglio lo sapete che voglio che desidero desidero ardentemente quello che ti spida quello oh c'è anche la chippad ma che figata ma queste cose sono una figata cioè tu spendi le risorse vai a mantenere quest fa le cose quello che ti spida nider flux mi sa che è lit no allora sta la legge male eccolo waystone simple storage la simple storage figo speed ti prego dimmi che posso farlo non posso non posso non posso non posso farlo non entra mi dispiace amici mi dispiace lo so è un mondo di tenebre allora facciamolo facciamolo qui che ce l'ho 26 in realtà prima era il contrario prima entrava qui e poi andava sopra però l'ho switchato perché sono pieno di ciarciollone che usiamo soltanto per cuocere le cose eccolo il gruttino non so perché sta facendo sta roba vai di grutta dammene un altro po' super sexy perfetto sapete però che ci manca ci manca la clay ottimo direi clay che si convertiva dalla sabbia quindi ah e la sabbia non la potevo fare fermi tutti fermi tutti fermi tutti la sabbia non la potevo fare perché è richiesto un tier più avanzato e amici non l'avevo fatto in live cioè non l'avevo fatto in puntata e sapete che io sistemo pianifico ma non vado mai avanti senza di voi quindi era la gravel la gravel pure la gravel pure la gravel ok ok quindi in realtà questo basta ci facciamo gravel ci serve la gravel potrebbe servirci e la sabbia e la clay a questo punto giusto vediamo un po' la clay sempre tier 4 amici perfetto perfetto e il tier 4 aspetta che rimetto questo forse non mi serve tutto sto prodotto sapete non credo non penso proprio dicevo il tier 4 si dovrebbe fare con il mio amico copper è rosso dai scusami incasiniamoci l'inventario perfetto vediamo un po' da paura da paura ne facciamo un pochino tanti tanto di di stick ne ho decisamente niente ne ho voilà 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 e ok sono tanti sono soddisfatto allora prendiamo prendiamo la struttura dobbiamo fare un altro minerino eccolo qui me ne faccio un altro me ne faccio altri tre ma che dico un altro perché so le cose che piacciono vabbè sta giungendo notte ah ma guarda 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 quanto so pianificante eh solo che poi mi scordo queste cose allora qui mettevamo questo sbrem li separo di uno così sono più bellini perché gli altri alcuni non sono no perché musica fanfara triste li avviciniamo eh sì no oddio ah dove stanno qui sì ok ok e ok benissimo amici io ovviamente ho messo a posto le cose che ci servivano sarò un po' triste e quindi prendiamo la sabbia la clay la gravel Mario Franco la torta no fammola diventa sabbia per favore ok che poi ce ne serve pochissimo non so perché sto a fare queste grandi quantità eh cioè ce ne servirà sicuramente però allora facciamo la clay più bellina dai poi c'è la gravel qua che buio che buione e facciamo uno due tre quattro cinque scei acente otto nove e signori farmiamo come dei laidi che spettacolo che spettacolo let's go allora cestina cestina e cestina poi ci mettiamo i cosi i pill qui sopra ma tanto per adesso ci abbiamo abbastanza materiale per poterlo fare a mana quindi bam diventa clay bam diventa clay bam diventa clay bam diventa clay non diventa clay perché diventa sand però poi diventa clay poi diventa clay bam ok e quindi amici amici e amici e poi ti fregano la bici che meraviglia che lei come se piovesse meraviglioso fantastico la buttiamo qua dentro e per gradire io direi che prendiamo questi un attimo così ci smelta 50 pezzi a botta atomico però non mi fa la legna zio fammi questo che mi serve grazie grazie e quindi dovremmo vedere tranquillamente fare miei cari tutto il cocco bricco che ci ti ha messo scusa ti ha messo eccolo qui tutto il cocco bricco che ci serve forse pure pure troppo cioè possiamo farne possiamo farne due eh vabbè ci possiamo pensare ci vogliamo pensare ci penseremo quindi martellino eccotelo qui dentro entra direttamente il coal e tecnicamente il mio amico ben dovrebbe aver potenziato questa formace che normalmente è lenta come il culo 12000 coal coke e abbiamo fatto la questina che ci interessava ok 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 la coppertina ok questo qui era quello finale ci siamo ci stiamo avvicinando al basic tecnico amici ci stiamo avvicinando che comporterà anche la mia speed e sono felice di questo qui dice che con il coso di ceramica possiamo prendere possiamo prenderlo se ti dicessimo prendilo 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 tu dove renderesti eh fatemi sapere nei commenti no magari non fatemelo sapere nei commenti ecco ok direi che i brick non ci serviranno mai più mettiamo a cuocere questi per adesso non abbiamo ancora le tank ovviamente guardate qui quanto ben di dio a proposito a sto punto a sto punto siamo fatto 30 facciamo 42 che è la risposta ad ogni cosa mentre rispettiamo che quelle cose si cuociono non è vero già cotto o cucuetti ok diciamo che adesso amici avremo un sacco di materiale a costruzione nel caso cioè se vogliamo fare tutto di brick lo possiamo fare così magari licenziamo sta stone che si l'ho cotta un po' miro del culo buttarla oddio potrei mi prendo la dirt me la porto di là così il grasso ce l'ho e prendo il brick e faccio tutto di brick qui dentro tipo non c'è una merda faccio che gara a ste cose ok ce l'abbiamo good dunkelsen poi ci dice con questo fai il legno lo sappiamo solito vecchio cosa oppure possiamo fare la jerrycan jerry fame di mele ok chi è che vi bravo oh shit aspetta posso posso buttarlo nel mondo cos'è sono infiammabile ok scusami non volevo essere infiammabile facciamo così jerrycan posso però non posso riprendere le cose nel mondo però posso buttarla dentro e abbiamo 10.000 di inventorio niente male niente male peccato che dai c'è un secchiello yes scusate un momento ho avuto una dispersione ok allora ricordiamoci dobbiamo per poter fare il tecnium fare queste crafting table qui ok sono facilissime che svolta che svolta rega fermi sono spettacolarmente facili oddio ne ho fatte troppe va bene lo stesso ok u per fare l'advanced quindi ce ne serve un'altra u e ci serve un po' di col cocco velocissimo raga ha preso due delle volte più noiose cioè no allora l'immersive engineering è bellissima però è noioso il fatto che è lento e l'extended crafting invece è solo noiosa e le ha ottimizzate cioè io lo amo lui davvero lo amo ok ci suggeriva di fare le basic autocrafting table che dovrebbero salvarsi l'airocype ha effettivamente molto senso e si fanno con degli hopper ma io lo amo a questo punto facciamo pure quella basica magari c'ha qualcosa cos'è? ah l'avevo puntato io magari c'ha qualcosa che vogliamo craftare lì dentro c'è un po' di uuuuuh ma lo fai? scusate ho avuto un momento di faience ma come tre franco ma come tre ma dai se muovere di legno oh rega ma io voglio sbloccare la simpola a sto punto cioè immagina tutto 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 dentro tutto dentro datemi un secondo ci sono troppe cose a cui sto pensando ok quindi ci abbiamo lei e lui lui è 3x3 penso che abbia bloccato il fatto che vada RF e questa qui è 5x5 ok vediamo un po' i crafting di questa qua ci dovrebbero stare non ci sono sono triste forse non serve forse si ah no eccole 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 advanced ok no non ci serve quella super avanzata si fa tutto in questa sembrerebbe figo figata ok e dovremmo fargli salvare il lingottino allora lingotto torniamo a noi tanto bronzo smooth clay e threaded wood il threaded wood normalmente è un po' un dito farlo ma tecnicamente con questa jerry can dovremmo poterlo fare tranquillamente come ce fa come ce fa sto pienissimo aiuto aiuto liberatemi come si fa si fa così poi fai così poi fai così e circondi oh yes oh super yes regà sarebbe stato bello se l'avesse fatto in grande quantità come desideravo però non possiamo pretendere troppo da minecraft fra ok ora la giardina è andata qui signori pensavo di più però effettivamente non è così tanto dammelo 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 sbrem abbiamo un sacco di threaded wood molto bene molto bene e qui dobbiamo metterlo a mano no 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 il cacchio proprio il cacchio allora la vislazzuli eccoli qui poi dobbiamo fare un bel po' di sbronzo facci lo sbronzo fammi lo sbronzo fammi lo sbronzo fammi lo sbronzo ma a parte un po' di sbronzo ce l'ho vabbè 21 io ne facciamo fare un altro po' ah giusto un altro po' poi andiamo a prendere la stone direi che quattro stecche possano abbastarci intanto io già a finire il cibo mi serve qualcosa che mi dà saturazione migliore delle mele però me mangio le mele grazie poi con la con la simple possiamo prendere tutto il call da lì mandarlo di qua fare quello fare tutto in automatico senza farlo a mano fantastico sbram anche basta fammi la smoot blitz eccola qui che altro ci manca ci manca ci manca ci manca la clay e il call cook tra l'altro uno marica fantastico sai che stavo pensando a questi di metterli interrati tipo a st'altezza qua così non dobbiamo mai salire però sono belli da vedere non lo so non lo so devo decidere devo decidere signori dovremmo avere tutto shift per salvare così ne botto senza senso tra l'altro questa se lo sbaglio facciamo così ah no ho fatto shift e l'ho cancellata ok adesso si adesso se la ricorda se non sbaglio questa bellissima crafting table bellissima si fa per modo che di dovrebbe prendere le cose da sopra quindi gli manca thread lapis clay guardate ma che merdaviglia è c'è c'è wow wow si devo farne due di queste eh riga ti dà paura non devo neanche ricordarmi la resa pipe signori il tank room capitolo 3 ma quanto sono belli sti macchie che filano lisci adoro dammi tutto dammi tutto fantastico e adesso primo su tutto non voglio non voglio gli elicotteri oddio i drawer i drawer potrebbero essere interessanti butt rega ma io voglio spinta lo desidero perché non mi ha visto lo spinto è più veloce cioè nel senso spinto 1 spinto 2 spinto 3 posso togliere la fame ma ma la se è stronzo è stronzo lo prendo come una sfida personale questa fratello me lo storo l'advance a tecchio ma me lo me lo me lo stantoffo cazzo ok preso dalle teoria non l'avevo calcolato ci sono arrivata adesso le basic si fanno con il tecnium o meno con quello avanzato le light si fanno con quell'altro così credo vado in punizione a dormire allora 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 amici ci serve assolutamente il trashcan perché perché se no questa si ferma e ci serve più col coke di quanto cresototoil consumiamo che poi lo consumiamo a mano a meno che non avessimo delle tencone gigantesche ma non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo quindi prendiamo è la matrigna ma quanto me ne è dato ma quanto me ne è dato però è più compressed del compressed quindi ho fatto bene a prenderlo facciamo uno di questi sbrem subito subito realizzato con velocità e abbiamo sbloccato questo scusate ok adesso tecnicamente dovremmo poter fare togli di togli di togli di togli di i trashcan idem trashcan ok e mi interessa il fluid ho visto bene pezzo di merda stupido pezzo di merda e allora iron sia boys ho sistemato questo qui perché era tutto pieno laggiù c'era un casetto adesso vediamo quattro cestone meglio andiamo a vedere quindi il capitolo del basic tech io non abbiamo fatto tutto giusto yes dell'iron signori ma siamo arrivati siamo arrivati se sentite i rumori strani che è focaccia che ha trovato probabilmente un elastico ci siamo fammi fammi prendere queste cose fammi prendere queste cose fammi vedere se posso fare un pochino di carte di carte stagnole facciamo subito questa ottima ricerca che cos'è blocco di sbronzo infatti stava di ma perché era piccola ok ok subito fatto in men che non si dica let's go e sblocchiamo il ferro ovviamente dobbiamo andare nel Orson U questa credo che sia la modalità skyblock per disattivare questo disattivare questo e attivare questo quindi adesso se andassino vabbè insomma ecco si andando a prendere il light grey ottimo direi ma ne prendo di più ragà ma si ma si ma si crepi la valizia taglio e devo fare una guandina che le ho perse quella di diamante si fa col diamante ma che cosa vi dici maine ma è fantastico scusate quella di diamante è molto molto meglio quindi facciamo così poi facciamo così poi facciamo così forse non serve così tanta roba eh regà però meglio abbondare che difficile attenzione iron e alluminio usiamo piedi forse 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 ho esagerato si un pochino forse forse non dovevo fare così tanto ok li lasceremo esponare con questi non possiamo fare direttamente i blocchi ma possiamo creare i nostri blocchi di ferro uno eccolo qui e poi i nostri blocchi di alluminio 29 no me ne servono di più t'ho detto che mi serve anche il trash can amico ah che cacchio guarda vedi devo buttarli tutti di sotto fanculo bastard andate di sotto no li sto riprendendo ah consuma la fame consuma la fame ecco il che ce n'ho qua sbagliato cosa rubato dai che voglio lo speed cacchio voglio ah no vado lento perché c'ho fame si delle mele eccole hai trovato si è un elastico regà trato un elastico la la mandrilla quindi rifacciamo un attimo il blocco di alluminio che bello che non devi scavare una volta regà però non devi neanche setacciare come un matto scocciato e andiamo a vedere con che cosa si fanno le cose si grazie molto gentile l'iron scusate non posso non posso scavarlo ah yes col tier 4 da paura da paura ce lo dovrei avere da qualche paura eccolo qui strutture mario e dovrebbe avanzarmi anche un miner solo uno forse sento il bisogno della simple regà anche se la simple sta morendo ok troppo faccio sto facendo troppi crafting per il poco inventario che ho quindi fra un po' mi esplode pure queste altre due chest vai ne abbiamo fatte due le mettiamo le mettiamo le mettiamo le mettiamo le mettiamo qua le mettiamo assolutamente qui e aspetta aspetta oh cazzo sono 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 pienissimo aspetta un momento butta butta no il call no butta butta questo perché zionifica butta 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 vai dobbiamo prendere la stone eccolo si perché devo fare il muro destro tra l'altro devo sbloccare anche la chip pad che io cercavo la cosa come si chiama la chisel invece non c'è la chisel c'è la chip pad eccoli qua allarghiamo di qui perché perché si poi torno indietro quando vedo che vado troppo lontano che meraviglia che meraviglia ok sbrem non qui qui yes e non qui ma qui fantastico boys fantastico oh ma pure l'alluminio si sembra di si allora tutto tutto la cosa bella del giabo forneist è che tu non aumenti le fornaci il trapano a quest'ora dio quanto rimpiango l'appartamento insonorizzato a Dubai sembra che abbiano smesso forse devono mettere soltanto una vitarella non lo so intanto mettiamo questi qui sembra funzionare fantastico e facciamo no ci metto sempre le ceste mi avete detto che questi buttano anche dentro le conveyor però preferisco la ceste perché se si impalla la ceste il miner smette di dargliela e questo potrebbe essere importante facciamo così così e poi andiamo a di qui facciamo un martello penso di sì e signori ferro e alluminio farmato let's go però ho buttato del ferro lì dentro perché voglio fare questo Mario no scusate il qua l'ho buttato abbiamo fatto il ferro e spoiler questi nuovi materiali non vogliono tre pezzi per fare un lingotto ma vogliono cinque pezzi limortecci no a parte questo nella jumbo furnace cinque pezzi regà esoso oppure possiamo polverizzare le cose non vi preoccupate perché ho già fatto un terzo non so quanto mi servirà d'alluminio ma di ferro ne voglio tanto perché è abbastanza basico in minecraft moddato e quindi ho fatto un terzo ci ho messo i cicci cicci e quindi dovremmo avere una quantità decente di ferro vediamo un attimo il ferro sta scorrendo a fiume nelle cassa del tesoro non è vero sono sette però possiamo fare i bucket signori baguettino tattico e adesso finalmente posso fare il non ho la cobblestone ma come ma come non ho la cobblestone yes ma soprattutto un altro di questo yes vediamo se posso per sbaglio metterlo qui dentro no quindi devo tirare fuori le cose in qualche maniera pipe abbiamo queste che però non estraggo in maniera automatica maybe liquid hopper nope quindi mi sa che dobbiamo sbloccare qualcosa raga a meno che non faccio la tank aspetta 120 tic altri 20 tic ci freghiamo oppure l'alluminio che è buono interessante molto interessante adesso però con questi due cicci cicci dice possiamo fare le rotaie in che senso e la blast brick ah ok brick ce li ho cook posso farlo mario possiamo vediamo un po' non così tanti fratello dove sei eccoci va bene e poi boom giù nel canestro 27 così debotto senza senso senti la metto la metto la metto la metto qui questo mi ha un po' annoiato ah mi ero scordato che mi importa è lentissimo è super lento fissiamole intensamente la metto qui li ho usati per prendere le distanze questi qui ma visto che la blast è comunque 3x3 tanto questa è la versione iniziale quindi è quella che non possiamo gestire automaticamente se non sbaglio ora la domanda era ma dove era la ciccia ciccia era era qui sì 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 quindi steel alluminio scusatemi ferro e alluminio e adesso steel con il cock brick immagino e questo va automatizzato questo amici va automatizzato e ci serve davvero un estrattore di fluidi o va velocizzato anche questo ma io ti amo ben ben sei il migliore lo sto scherzando è uno dei più bravi secondo me pecca nel reparto grafico c'abbiamo lo steel così sbrem poi c'abbiamo lo steel block che non sappiamo è peggio dell'annuminio chitta san chiucca e poi ci abbiamo le ricerche per un prospector pkx in grado di collezionare la redstone oppure c'è attenzione il fluid assorber crea fluidi wait stai scherzando ha fatto i miner dei fluidi oil etanoil acqua non c'è il cresotto d'oil che bastardo che bastardo figo molto molto figo ti toglie tutta la parte noiosa dell'immersive in cui devi fare il plant oil quei semi quelle cose lì bam miner atomico non capisco a che cosa ci potrebbe servire adesso ma forse dopo ci sarà una delucidazione ulteriore abbiamo il tier 5 support frame che ci permette di fando la redstone il nickel l'oro l'ender ore l'or dei colori la compressa e compressa a livello 4 e lo faremo il silver oppure queste strutture qui che per adesso non ce ne viva assolutamente niente in tutto questo dov'è la simple chiedo per un amico è lontana peccato è lontana ma non troppo lontana i trenini i trenini per la logistica come è un'altra mod è diversa non l'ho mai vista questa rega little logistic ma che bello ma che spettacolo quindi in questo momento del gameplay ok serve la redstone dicevo in questo momento del gameplay il nostro amico ci dice niente tubi attacca del cazzo niente simple logistic network niente xnet niente cacchi fai i votuti trenini cioè gli diamo un'occhiata perché se no la puntata è venuta troppo lunga le diamo un'occhiata anche perché per farlo ci serve il blocco di steel li mortecci e quindi ci serve un botto di ferrozio 21 e 17 dovremmo esserci no 23 e 36 sì dovremmo esserci tra l'altro penso di poter fare anche i blocchi quindi facciamo così eccolo poi una ricerca e il blocchino e mentre aspettiamo che comunque ce ne vuole vi prendo un pochino di reward grazie quanto quanto meno da 5 vediamo vediamo le ricerche basiche allora i storage drawer si pagano il dover conto però adesso non esento la necessità ancora no poi abbiamo vabbè il quadricottero l'aeronave questa non un giorno se volevo faccia in giro nel vuoto siderale va bene la deconstruction world destroy block inside facing you e l'angel core ci permette di piazzare i l'occhi a mezz'aria i fremmet blocks la cip ed eccola il l'aeron c'è no l'aeron cester per forza per forza assolutamente sì ok mi serve più cana da zucchero mi dispiace dovremmo fare un orto non avevo voglia di vedere un orto in questa bellissima tecnologia le ho messe qui ho detto ma non mi serviranno mai così tante invece e invece e invece vediamo se ce la facciamo yes perfect sbangate ci dovrei avere anche le ceste si le ceste i buckets iron cesterga submit submit andiamo a vedere che poi adesso siamo al ferro quindi in realtà l'aeron cestona diventa gustosa secondo me intorno all'oro perché diventa grande quanto una double chest però buonissimo ce l'abbiamo ce la mettiamo e ci siamo ci siamo signori e intanto il tramano sta continuando a partire portarci ho finito il tecnico seriously man ho finito va bene facciamo così non vedo l'ora di avere la simple per evitare di fasso e giù che mandiamo tutto dentro i trover bello gustoso ste cose sono fighe ben signori questina della redstone e adesso ci ha sbloccato la possibilità di trovare la redstone dentro il coso quindi faccio disabilita abilita prendo il prospetto armario prendo della light eccola qui non ne faccio 7 mila milioni di miliardi come prima perché ho imparato la lezione la dura lezione va bene ed ecco la redstone amici bam con questa redstone immagino possiamo fare la restonina e questa restonina qui tre pezzi nella jumbo fornette minchia no 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 30 seo qui ho messo sempre più giambo fornette vedi dovrebbe farle a cannone c'è tipo tutte forse meno due sbroom signori abbiamo anche la redstone a questo punto blocco dallo via blocco di ferro no vabbè devo fare devo fare altre cose il fluido e poi ce lo facciamo ci serve che volevo dirvi che volevo dirvi che volevo dirvi ce lo mettiamo 36 da parte per fare il miner che serve il tier 3 lo faccio off no problems volevo andare a vedere assolutamente questa modina dei treni la diamo vediamo solo 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 un occhio perché anche l'occhio vuole la sua parte amici poi se la conoscete accetto volentieri dei suggerimenti nei commenti di questo video perché tipo boh non la conosco letteralmente anche se le moda di treni sono sempre belline devo essere sincero tranne quella che si baggava tantissimo nella steencraft quella un altro problema però perché sto qui a ok ho fatto questo così ogni volta che shift o lo faccio per due secondi però me ne da almeno sei e ci possiamo fare le nostre belle ricerchette eccole qui meraviglioso meraviglioso e però 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 è la redstone costa zio i mortacci da scorsi pezzo di fango ultimo degli ultimi diviso 3 quindi me ne servono 9 blocchi 36 72 mille miliardi di bilioni di rosso vabbè ce ne serve tanta fama così mi servono ma forse forse posso mettere pur la cesta sopra sapete o sotto ci metto una iron chest sotto dai ok ci siamo vediamo quanta me ne esce no idea me ne dovrebbe uscire 30 ci dovrebbe forse essere più o meno 32 yes ci siamo eccoci qui bella chicco ho la ricerchetta no bam ok allora bene adesso che conosciamo l'oggetto perché ci ha sbloccato la mod prima non la potevamo neanche googlare sulla nei ci ha dato la guida automatic rail fluid fluid hopper bene bene mi piace mi piace mi piace ma prima di vedere vedremo questo della prossima puntata vediamo un pochino arriviamo a mi ricorda un po' la railcraft cioè il trenino col fluido con la fluid tank della bullcraft la ricordate va bene ne vediamo ne vediamo uno piccolo uno piccolo solo perché sono curioso ah questo è il train kart poi col train kart ci si farà tutto il resto immagino che bella la locomotiva fluid steam locomotiva oddio che figa questa è quella con la chest le ragazze sono bellissime comunque e se volessi farne una ti mancano i pistoni i pistoni mocellai vediamo soltanto lei la vediamo vediamo se è bellina aspetta che vado a dormire perché è molto è molto notte e se vedeva quindi bucio da culo se si apareva lo metto qui lo metto qui lo metto qua oh ma che dolce ma è piccina c'ha le stazioni bella 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 mi ricorda un sacco quella della mi sembra la railcraft più quella della feed factory e poi tu rifai questo qui però hai finito il ferro dov'è il ferro? è qui 20 di forno oh devo mettere la redstone che no fino alla prossima puntata stavo la merda no voglio fare questa si le facciamo due poi facciamo e ci facciamo la cestina scusate scusate devo chiudere questa puntata la devo chiudere sabbia 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 eccola qua ma lei che la sabbia si può trasformare in vetro no devo cocerla coci menopo fra perché ho messo la compressa da qua dentro ah ho fatto un botto di gioco fornese vetro per noi e facciamo anche questa ora tecnicamente ci sarà sicuramente una svrencia io stavolta già l'ho vista mi ricordo questo crafting è un crafting da strozzo forte però come faccio a fare il rosso scusa bra non c'è il bon mille non c'è quello non c'è quell'altro mi sa che dobbiamo sbloccare quel die or che avevamo visto vabbè fa niente fa niente vediamoli così separati ricado immagina la nostra base con questo trenino che va in giro prende le cose le mette dentro quindi prende il che ne so il ciarciol da qui lo mette lì dentro da lì prende il col prende il liquido lo manda dentro una tank magari dell'immersi ingegneri che è bellina grande e prende il col coq fatto lo manda qui dentro dove ha mandato anche l'aeron così facciamo è un sogno mi piace tantissimo questa serie spero che piaccia anche a voi se dovesse essere così un commentino per favorire l'algoritmo a io mi piace sarebbe cosa gradita altrimenti ci vediamo vabbè ma pure se ufate se non ufate ci vediamo nella prossima puntata mi sa che ho rifatto quella cosa chiuderò tutte le puntate così bello e voi ciao